Musica E cari videogiocatori benvenuti dal vostro Darimana in un solo Retro Games Benissimo! Oggi iniziamo con una puntata speciale Una puntata speciale Una puntata di sfida Il caro grande Talcanihan Retro Gaming Ha lanciato una sfida aperta a Facebook Nel frattempo state vedendo un pochettino Se andate nella sua pagina troverete il download Dove potete scaricare il gioco e affrontare diverse sfide Torniamo a noi Io mi sono sentito colpito nell'anima di poter fare questa sfida Partecipare a questa sfida Ho fatto dei tentativi Cioè ho fatto delle prove Per provare questo gioco Per vedere di che cosa si tratta E sono una schiappa perché ho perso miriadi di volte Ma mi sono allenato Non ho fatto un gran tema Ok ora vedete un pochettino come mi sono comportato nel video Ma ci tengo a precisare che Anzi Ve lo precisa direttamente lui che è meglio L'importante è una cosa Che questo gioco che io ho fatto È nato da un corso Cioè ho fatto un corso online per programmare E come primo esempio C'è questo gioco con le navicelle Che niente Ti insegnano a fare il movimento Lo sparo Due soli nemici Cioè la navicella rossa e quella arancione Poi è finito Dice se volete Continuate a aumentare A implementare Io ho fatto questi dieci livelli Con un boss finale Con il power up Bene Detto questo Iniziamo questo gameplay Ma prima di iniziare questo gameplay Devo raccontarvi una storia Bene Apriamo il nostro libro E leggiamo C'era tanto tempo fa Un generale ambizioso e malvagio Il suo nome era Talcanyan Retrogaming E il suo obiettivo Era distruggere la navicella blu La navicella blu Di cui noi ne impossesseremo Sarà pienamente bombardata Dai suoi fedeli Seguaci E dunque Il piano di Talcanyan Sarebbe quello di conquistare L'intera galassia E noi avremo il Vabbè lasciamo stare Facciamo questo gameplay Siamo in posizione Abbiamo il nostro microfono Da guerra Quindi possiamo iniziare Da premettere il gioco Non è per niente facile Io mi sono allenato però Non riesco ad andare Oltre un certo livello Lo andrete a vedere E quindi Ho messo schermo intero Così Più comodo Anche per me Dato che è Per le dimensioni del file Ok Adesso Che devo dire Altro Sì ci sono effetti speciali Quindi la musica La inserisco io 3 3 2 1 Start Aiuto Ok Prima ondata Molto semplice Nemico Fatto fuori Seconda ondata Ok Qua seconda ondata Già Aiuto Non mi devono prendere Ah Ah Quello là sopra Non l'avevo visto Scappa scappa Ok ok Oh Terza ondata La barriera di difesa Mi serve Quella green Ok 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 Nemico nemico Amati il nemico Aiuto Ah Scappo scappo Ok ce l'ha fatto Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio No Mi prende Ah Mi ha preso Ok 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 Quarta ondata Che culo dai Ok Ah Quarta ondata La vita Me la conservo No La vita Dove vai vita No No Mayday 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 Oh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Quinto stage Quinta ondata Ancora più difficile L'arma potente No Non voglio morire Cos'è quello Grande Grosso Ah Ok ok Un altro nemico Che sono zanzare Il zanzare Il zanzare Aiuto aiuto Ok 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 Oh Wow Ancora ce l'ho Cos'è Ah Beh si è balata Ok Zanzare Ancora zanzare Sette Sette babau Aiuto Mayday Protezione Protezione Dove vai Protezione Bastata Vieni qua Mayday Mayday Ci ho provato Ok Ci ho messo il mio impegno Caro Egregio Signor Talcanian Ma perché Li fai così Complicati Cioè nemici Tipo A capinelle Non ci ho avuto il tempo Quindi questo gameplay è giunto a fine Troppo presto Noi ci rivediamo al prossimo video AHHHHH AHHHHH AHHHHH